Che cos'è la balbuzie? È un problema di linguaggio? È un problema di ansia? Devo tenermela e imparare a conviverci? Posso liberarmene? Beh, la nostra risposta in psicodizione è sì, puoi liberartene, puoi proprio scegliere di riconquistarti la tua comunicazione libera, anche in imprevisto, anche in stress. Faremo vedere dei video anche durante la conferenza di mercoledì 2 ottobre a Padova, all'Hotel Galileo, in via Venezia, zona fiera. E in questi video entreremo nella parte tecnica di psicodizione. Perché funziona? Perché sotto ansia quegli strumenti mi permettono di rimanere libero e fluido e lucido. E quindi sarà un bel momento per confrontarsi e far avere un po' di risposte. Vi aspettiamo mercoledì 2 a Padova. Un saluto da Milano Conferenza. Ciao. A presto.